Musica Barletta è pronta ad accogliere piccole navi da crociera collegando anche la Puglia nordbarese con la Grecia. È stata inaugurata infatti la nuova stazione di accoglienza turistica nel porto realizzata dall'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale e finanziata dal programma di cooperazione territoriale Interreg Greece Italy 2014-2020. Dopo Monopoli e Manfredonia tocca Barletta a usufruire di una stazione passeggeri moderna e funzionale provvista di servizi e che potrà accogliere imbarcazioni con a bordo il target dei croceristi curiosi di sbarcare in porti minori. Ora dovremo fare dei sforzi molto sinergici per convincere gli armatori a scalare questo porto. Noi iniziamo a portarlo, ormai da un po' di anni, nelle grandi manifestazioni fieristiche dedicate alla croceristica però bisogna fare uno step in più onestamente. Bisogna invitarli a venire, quelli che si chiamano i cosiddetti fam tour, cioè sono familiarization tour fargli vedere perché non è evidente che possa esistere una cittadina così bella come Barletta a poca distanza da altri porti fai a vedere Barletta, fai a comprendere che Barletta è anche un hub verso altre mete che sono invece anche già più conosciute almeno nel settore della croceristica, penso chiaramente a Castel del Monte. Ancora tanto lavoro da fare dunque, alcune trattative sono già in corso, il porto di Barletta grazie a questa nuova struttura d'accoglienza potrà dare una spinta ulteriore al turismo di tutta la BAT. Sì, questo è un territorio che ha grandissime potenzialità di sviluppo turistico penso alla nostra città, è bellissima, penso anche a Canosa come parco archeologico, Castel del Monte l'Oasi naturalistica di Margheria di Savoia, Trani, città molto belle quindi abbiamo anche potenzialità enogastronomiche da poter utilizzare, da poter offrire e da poter catturare in termini positivi tutti i turisti che quando verranno dopo aver visto le nostre bellezze, certamente porteranno nel loro cuore questa esperienza e probabilmente faranno anche da propaganda, propaganderanno il nostro territorio.